ciao raga benvenuti in un nuovo video fuori dallo studio e con Matteo. Ciao! Recensione un po' particolare oggi fuori dallo studio perché dobbiamo provare questi oggetti questo mega pacco che mi è arrivato fuori dallo studio perché adesso vi faccio vedere. Innanzitutto è tutta roba che ci serviva perché facciamo tanto automotive e vedrete che in questi pacchi c'è proprio il necessario per fare video bellissimi di automotive. Andiamo a scartare subito. Allora iniziamo dalla cosa più facile da parlare però non perché è facile da parlare ma perché tanta roba è la batteria New Year la V-Mont Battery e il modello è il PS099 è da ben 6.800 mAh. Tu l'hai già provata questa qua Matteo? Io l'ho già provata con il nostro caro amico Davide durante un festival questa qui se fai video di festival o comunque anche video auto ultimo magari durante una gara che è molto lunga se colleghi questa alle nostre camere ai nostri faretti e a quant'altro hai energia per tutto il giorno senza dover cambiare batterie praticamente ti fa il leggevamo prima delle specifiche fa tre volte fa durare tre volte la batteria ad esempio delle nostre Panasonic esattamente è tanta roba cioè ti porti a casa veramente ore 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 di riprese senza dover staccare la batteria senza dover staccare la camera per esempio mi viene in mente hai da fare un video ad un concerto quindi con la camera fissa che duri per tutto il concerto prendi una V-Mont Battery di questo tipo Geniale. E tra l'altro durante magari mentre ti alimenta la camera puoi anche alimentare altre cose magari ricaricare il telefono ricaricare un faretto. Certo perché poi è piena di uscite usbc la 12 volt, l'8 volt cioè piena è piena veramente di uscite anche uno schermino led monocolore ovviamente che va a indicarti la varia potenza che va a dare ai vari dispositivi che vale ad attaccarli tanta roba ragazzi tanta roba questa qua la useremo sicuramente anzi la userai perché questa la prendo e la do a Matteo che la porterà nei festival magari poi se lo seguite vedrete in qualche storia l'utilizzo della batteria durante i festival e le ore di registrazione che fa la Matteo ma passiamo alla siccia più consistente. Qua dentro abbiamo delle ventose Matteo che ci serviranno per i nostri video automotive. Partiamo con la prima che è tanta roba la ventosa unica dobbiamo dire una cosa su queste ventose vedete che sono imponenti sono veramente belle sono quelle a pompa quella pompa Matteo tu sai meglio di me sono quelle più sicure per andare a collegare poi fotocamere action cam o l360 insomma sono le più sicure perché attraverso la pompetta tolgono l'aria da sotto e fanno sì che non si staccano mai esatto creando un vuoto esatto esatto creando un vuoto sotto è veramente la pressione che va a rimanere quando è attaccata è veramente importante è veramente importante questo è il copri ventosa in realtà anche il materiale come è fatta anche le finiture si si le finiture sono sono belle poi indicazione dei gradi esatto e poi all'interno ci sono degli accessori per andare appunto a collegare la nostra fotocamera ma bando alle ciance perché l'andremo a collegare sulla mia tesla per farvela vedere in funzione prima di andare a a collegarla però vi voglio far vedere l'altro pacco che ci è arrivato che è sempre una ventosa ma questa volta ad aggancio triplo guardate un po questo è il doppio e poi c'è l'accessorio per andare a collegare la terza ventosa e fare un aggancio a tre adesso noi la montiamo velocemente così andiamo a collegare sulla mia tesla poi colleghiamo a parte una gopro che vi facciamo vedere come resiste attaccando anche una nostra s52 con la speranza che non cada ma quindi la mettiamo subito sotto stress subito 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 anche perché le nostre s5 hanno gli obiettivi fissi che sono leggerissimi dunque su quello non c'è problema ovvio che sulla ventosa 3 abbiamo il bastone per allungare le nostre riprese e farsi di far uscire veramente riprese belle ma su questa io non vi consiglio di attaccare una fotocamera ma un action cam si o addirittura la 360 esatto per fare delle riprese veramente belle noi procediamo col montaggio e ci vediamo direttamente in car ciao ciao oh raga per noi è veramente la prima volta che usiamo delle delle ventose a pompa effettivamente sono quelle più sicure adesso ve lo dimostro guardate proviamo facciamo finta che dobbiamo fare una ripresa al l'autista di quest'auto vediamo un po appoggiate la ventosa e poi c'è il tastino qua non so se lo vedete il tastino rosso qui basta premerlo semplicemente iniziate a pompare vuol dire che sta togliendo l'aria interna per poter agganciarsi al meglio guardate si indurisce il pulsante la pompetta si indurisce vuol dire che ha finito la sua funzione di togliere l'aria ed effettivamente matte guarda quanto cioè se tira un altro po stacco il cofano della macchina e lei è pronta basta aggiustare l'inquadratura peraltro noi super professionisti perché abbiamo collegato il nostro filtro nd il filtro polarizzatore c'è tanta roba raga allora andiamo a inquadrare possibilmente il posto del conducente la colleghiamo bene sembra molto 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 stabile e possiamo andare a fare la nostra ripresa grazie a tutti dopo aver provato la ventosa singola che già mi è sembrata una figata assurda perché come visto matteo ho fatto un po di sterrato un po di buche il passaggio livello cioè comportata molto bene sono andato velocissimo però per le cose che servono è veramente figata sistema a pompa vedete molto facile è già è già posto il tastino si è ritratto all'interno vuol dire che l'aria la tolta ed è già stabile adesso andiamo ad allungare le due le altre due basi per far sì di tenere ok sono belle fisse andiamo a incastrare con la rondella queste e poi andiamo a togliere l'aria anche da qua guardate ma è semplice cioè io non me l'aspettavo è proprio semplice già lì ed è anche veloce ed è velocissimo i sistemi che richiedono tanto tempo veramente i nostri video automotive ringrazieranno matteo fidati i nostri clienti ringrazieranno molto perché perdiamo un sacco di tempo di volta ventosa sposta la mettila che è già lì e non va da nessuna parte raga abbiamo finito il nostro test abbiamo testato sia la ventosa singola che secondo me è quella che si presta bene per agganciarci le fotocamere e abbiamo provato anche quella tripla che con il bastone allungabile è fatta più per le action cam perché sono più leggera però abbiamo fatto come state vedendo delle riprese pazzesche veramente è come se ci seguisse un drone dal lato è veramente veramente figa e che dire new art come sempre mi sorprende per la qualità dei prodotti matteo ha visto che sono prodotti veramente ben fatti ben definiti esatto le finiture sono lavorate veramente bene e poi comunque sono molto robuste e devo dirti quello che mi ha sorpreso è la velocità nel montare il tutto si ha visto con il sistema pompetta ci metti veramente poco c'è io ricordo quando facciamo i video per gino ha visto quante volte ci mettiamo tempo a sistemare le ventose aggancia la stacca la non si stacca non si è sicuro la riprova esatto invece con la pompa con il sistema pompa sei sicuro che ha tolta tutta l'area da dallo spazio e dunque non la togli c'è tranne che non fa il movimento di tirare il bottone e sganciare e fare entrare l'aria non la togli in nessun modo l'abbiamo visto buche velocità eccetera perciò tanta tanta roba veramente vi metto tutto in descrizione ovviamente il link per acquistare sia la ventosa singola sia la ventosa tripla sia la batteria che è vero che ne abbiamo parlato poco ma perché c'è da parlarne poco perché la sua funzione è quella di dare energia alle nostre camere soprattutto quando dobbiamo riprendere magari per una giornata intera e dunque soprattutto te matteo che la utilizzerai durante i concerti durante le serate io guarda posso anche se non abbiamo provato tanto oggi ti posso assicurare io l'ho già provata proprio quel modello lì quella batteria lì e posso assicurare anche i nostri amici che è una bomba ne ho provate diverse di vario tipo ma quella lì a livello di energia che velocità di ricarica energia che può erogarti durante comunque i tuoi shooting non ce n'è e poi tra l'altro puoi attaccare come ho detto anche prima molte più cose nel mentre che carichi la camera puoi caricare faretti e quant'altro e assicurarti comunque energia per tutto l'evento esatto è quello perché magari ti si è scaricato cellulare puoi collegare anche il cellulare e te lo ricarica sia a posto bene amici ripeto grazie a matteo che mi ha aiutato a fare questa recensione altrimenti da solo non sicuramente non avrei fatto le riprese belle che siamo riusciti a fare metto tutto in descrizione vi metto anche il link della pagina instagram di matteo così lo andate a seguire e ringrazio new year e ci vediamo nei prossimi prodotti perché matteo non sai new year mi manderà altri prodotti ancora fighi che possiamo utilizzare nei nostri set e nelle nostre avventure video detto questo raga ci vediamo al prossimo video ciao ciao raga c'è tantissimo sole ma mi ero dimenticato di far vedere come si smonta guardate al volo tirate il bottone rosso la levetta quella la pompetta e basta tirare è fatto ciao